Io vorrei dire una cosa ancora più grave perché la dico da grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana e quindi mi rivolgo veramente al Presidente della Repubblica che è anche Presidente dell'Ordine della Repubblica Italiana. Io vi domando come sia possibile che il Presidente della Repubblica giorni fa si sia espresso dicendo che c'è stato un sentimento antiscientifico, si è diffuso un pensiero antiscientifico. Allora cosa c'è di più antiscientifico di aver fatto tutto quello che si è fatto con le prove che stava mostrando prima l'Avvocato che la stessa Ema diceva che i vaccini cosiddetti erano serie sperimentali e non potevano. Quindi è gravissimo che poi lui dica questi vaccini che hanno salvato milioni di vite, ma mi vorrebbe tirar fuori un lavoro scientifico, uno che esprima questa affermazione controfattuale che non esiste, che non c'è scritto, non c'è uno studio al mondo che affermi questo fatto. Ma la cosa ancora più grave è che ieri, nel momento in cui l'OMS sta portando questo attacco globale e questo attacco globale deve essere praticamente passare solo dall'Unione Europea e quindi dalla von der Leyen e lui afferma che bisogna rafforzare l'Europa, che bisogna smettere con la storia dell'unanimità. Allora questa storia dell'Europa, come si fa a essere dichiarati anti-europeisti se uno semplicemente dice guarda che io nell'Europa dei fondatori ci ho sempre creduto, però non è più l'Europa dei fondatori, è l'Europa in cui ci sono lobbisti, delinquenti, bugiardi, come dimostrano i famosi sms della von der Leyen. Tutte le bugie possibili, immaginabili, tutte le menzogne possibili, immaginabili, vengono dette la dimostrazione e che i popoli a piccoli pezzi si stanno ribellando. Allora, prendere la vittoria dei cosiddetti sovranisti o populisti, che li chiamano perché bisogna sempre stigmatizzare, in Olanda, quando effettivamente è gente che si ribella contro una mala gestione, contro una cattiva gestione, adesso improvvisamente vengono descritti come se in Europa c'è un sentimento anti-europeista. No, c'è un sentimento contro dei malfattori. Allora, però, se i malfattori, cioè quelli che hanno violato la legge, sono, ahimè, ai vertici delle istituzioni, come si è visto, Speranza, Draghi, che ha detto una falsità sesquipedale, e purtroppo adesso io non voglio essere denunciato per, come si chiama, per avere insultato il Presidente della Repubblica, io gli rivolgo un appello, vi dipendio del Presidente della Repubblica, ma gli rivolgo un appello con timore e tremore, un'altra volta l'avevo già fatto, Presidente, ma lei come può dire queste cose serenamente? Come può augurarsi che l'Italia perda la sua sovranità di fronte a un attacco così clamoroso alla libertà dei cittadini, che viene trattato da una persona che si è dimostrata, che credo sia inquisita fortunatamente anche nell'Unione Europea per quello che ha detto e fatto, e diamine, ma allora qui io mi domando, ma io tutto quello che ho letto, studiato, con cui mi sono formato, lo devo buttare nel cestino, sentendomi dire delle bugie, come questo fatto che il vaccino ha salvato milioni di persone e che il pensiero antiscientifico sta diffondendo, ancora ieri questo Vaia, mi pare si chiami, che è responsabile di non so cosa nel Ministero della Sanità, ha detto che dobbiamo assolutamente vaccinare i bambini tutti con insieme l'antinfluenzale e il Covid, perché adesso c'è questo pericolo. Come si fa? Io non lo so, delle volte, perché non vorrei rovinare gli aredi, ma tirerei una bottiglia nel televisore quando sento queste cose.